Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. Il Milan si trova in un vortice di problemi a causa del caso che coinvolge il talentuoso centrocampista Tonali. Le recenti complicazioni potrebbero avere gravi ripercussioni per il club, un'eventualità che il Milan avrebbe voluto evitare a tutti i costi. La recente sconfitta subita contro la Juventus ha aggiunto ulteriori grattacapi per i rossoneri. Non solo ha ridotto il divario tra le due squadre a soli due punti in classifica, ma ha anche rafforzato le ambizioni della Juventus nella corsa per il titolo. Max Allegri ha sottolineato costantemente come il loro obiettivo primario sia assicurarsi un posto in Champions League, ma l'obiettivo ambizioso della Juve va ben oltre una semplice qualificazione tra le prime quattro. Nel frattempo, all'interno del Milan c'è un senso di rammarico per non aver colto l'opportunità di allontanarsi ulteriormente dalla concorrenza. La squadra di Pioli è ora sotto pressione, poiché la Juventus sta tentando di imporsi come principale contendente per il titolo. Tuttavia, ci sono questioni spinose che potrebbero minare le speranze delle squadre italiane, come il caso delle scommesse. che continua a essere un problema spinoso e fonte di grande preoccupazione. L'attenzione principale, però, rimane sul caso Tonali, che ha portato il Newcastle ad avviare un'azione legale contro il Milan. Fino ad ora, i riflettori sono stati puntati su Tonali, Fagioli e Zaniolo, con altri nomi coinvolti senza alcuna prova tangibile. Sebbene il Sherawi, Casale, Gatti e Barella siano stati citati, i loro legali hanno già preso provvedimenti legali per diffamazione. Tuttavia, la situazione si fa seria per i primi tre, con Tonali che è stato squalificato e il destino di Zaniolo e Fagioli in bilico, lasciando il Milan con un'altra sfida in vista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Newcastle ha avviato una causa multimilionaria contro il Milan, poiché la squalifica di Tonali comporterà un'immediata riduzione dell'ingaggio da 8 milioni di euro all'anno. Nel frattempo, il giocatore è in procinto di accettare una squalifica di 10 mesi, inclusa la mancata partecipazione all'europeo, in seguito a un accordo tra la Procura federale e i legali di Tonali. Da fonti interne al Milan emerge che il club rosso nero, al momento, non ha stabilito alcun contatto con il Newcastle, affermando di essere all'oscuro delle azioni di Sandro Tonali. La situazione si fa sempre più implicata, lasciando il Milan in una delicata situazione da gestire nei prossimi mesi.